Osservare, ascoltare e venire in soccorso ai disagi dei disabili, dei loro familiari e dei loro fratelli. Questi gli obiettivi principali delle giornate, caro Anto Amelio, organizzate dall'Associazione Autismo Arezzo assieme alla Cooperativa Sociale Coenè. Un progetto che segue il workshop che si è svolta ad Arezzo lo scorso giugno e che comprende un percorso di sei appuntamenti da ottobre 2016 a marzo 2017. Da oggi, per i prossimi sei appuntamenti, nei prossimi sei mesi, sono dei gruppi terapici che fanno bene a noi come famiglia. La mattina c'è il gruppo dei genitori e il pomeriggio, sempre come abbiamo fatto con la precedente occasione, ci saranno i gruppi dei fratelli sanni. È un outing, non tutti siamo pronti, dobbiamo rispettare i tempi di tutti, per quello abbiamo proposto sei incontri, però serve molto anche ascoltare, perché serve soprattutto non sentirsi da soli. A condurre le sessioni la dottoressa Carolina Medio, partendo proprio dal metodo caro Anto. È un metodo che dà sostegno attraverso dei gruppi di confronto tra genitori e tra fratelli divisi per età. Con i bambini naturalmente uso di più il gioco, soprattutto quando sono bambini di 4, 5, 6 anni. Invece con i grandi, sicuramente già è un gruppo di sostegno vero e proprio, come quello degli adulti in qualche modo. Anch'io sono sorella di un ragazzo con disabilità, ha una disabilità sensoriale, Antonio, e qui viene il nome, Carolina Antonio. E quindi forse il concepimento di questo metodo è stato fatto proprio perché avevo già avuto un mio vissuto, ho 48 anni, mio fratello ne ha solo tre, meno di me. Quindi insomma tutto il mio vissuto è stato anche con la disabilità. Lo ritengo un metodo positivo. Vivo la disabilità in maniera positiva, naturalmente non dimenticandomi che ci sono comunque dei limiti o delle difficoltà.